No vabbè ma è indescrivibile, è indescrivibile. Ho avuto varie fasi di studio, diciamo che in una prima fase mi sono trasferita a Roma, andavo a una scuola notarile che si tiene tutti i giorni al consiglio notarile e una volta alla settimana andavo a Napoli dal notario Genghini che poi è diventato il mio mentore. L'ho fatto perché la scuola di Roma essendo tutti i giorni dava una base di natura teorica perché comunque quando esci dall'università non hai la formazione notarile, hai come si può dire un'infarinatura generale, poi dopo in base all'attività che decidi di fare ti specializzi. Diciamo che a livello teorico avevo bisogno di qualcuno che mi indirizzasse, mi dicesse anche come studiare, quali libri eccetera. E quindi l'ho fatto per questo motivo qui e tra l'altro in quell'occasione ho avuto modo di conoscere tantissimi ragazzi che poi dopo hanno passato il concorso, anche qualcuno che non l'ha passato e comunque persone che studiavano con me. Veramente sono stati degli anni molto molto belli dove ho potuto conoscere tantissime persone e comunque ci siamo divertiti perché si studiava anche tutti insieme e poi non si studiava e basta per cui c'erano anche momenti di svago. Quest'anno per esempio mi è tornato in mente che siamo andati un sacco di volte al Teatro Brancaccio dove c'erano tutti i spettacoli che organizzava Proietti e in qualcuno di questi spettacoli c'era anche lui. Quindi insomma quest'anno che poi purtroppo è venuto a mancare mi è venuta in mente proprio questa cosa e poi chissà se il Teatro Brancaccio verrà poi chiamato, intitolato a Gigi Proietti insomma. Contemporaneamente io ho preparato anche l'esame d'avvocato perché il concorso notarile è un concorso pubblico mentre l'esame d'avvocato è un esame. La differenza qual è? Che esame lo puoi dare all'infinite volte e non c'è un numero chiuso di persone e la professione dell'avvocato può essere svolta da un numero illimitato insomma potenzialmente di persone. Poi dopo chiaramente nella vita reale è la competenza, la capacità o comunque anche insomma il territorio in cui si è che determina se uno riesce o meno ad andare avanti. Il concorso notarile come quello di magistratura in quanto tale è un concorso pubblico che viene fatto una volta all'anno in teoria dovrebbe essere una volta all'anno ma vabbè dipende quando ci sono i bandi. Ho visto che se ci sono 300 posti a concorso magari vengono coperti 250 ecco non è detto che vengano coperti tutti. Quindi è un po' questa la differenza e questo è il motivo per cui ho studiato anche come avvocato perché un'alternativa diciamo la dovevo avere. Poi dopo i due anni a Roma mi sono trasferita direttamente a Napoli. Noi avevamo creato un gruppo tutti i pomeriggi ci vedevamo per fare delle simulazioni di concorso che significa provare a comportarsi come accade al concorso quindi svolgere una traccia che poi dopo si compone nel suo svolgimento di atto di motivazione di parte teorica in meno tempo rispetto a quello che ci viene dato per il concorso quindi in minor tempo e soprattutto la cosa più importante anche tra virgolette più divertente era quella di correggerci reciprocamente i compiti quindi era facile entrare nei panni del correttore il giorno dell'esame per cui si vedeva se uno casomai aveva scritto bene però aveva una calligrafia talmente brutta che faceva passare la voglia di leggerlo e allora a letto da un altro poi è chiaro che era un modo anche per prendersi in giro perché chiaramente si era sempre un attimino in imbarazzo quando l'altro leggeva il tuo elaborato e comunque anche lì insomma ci sono state poi occasioni anche per divertirsi. Sicuramente ci sono delle cose che ho perso magari il rapporto di amicizia con determinate persone che magari hanno una concezione di amicizia un po' più legata alla quotidianità quello si perde però tuttora sono in contatto con le mie amiche di quei tempi ce le ho a Milano, a Brescia, in Sicilia, a Roma, a Napoli sono un po' dislocate su tutto il territorio nazionale ma quando ci vediamo e lo dicevo, lo raccontavo proprio l'altro giorno ai miei bambini perché in questo periodo particolare dove non si può andare a casa non si può essere più di un tot eccetera dicevo a loro che non si devono preoccupare perché comunque quando c'è un rapporto solido di amicizia delle volte quando ci si vede anche dopo anni sembra che sia passato un minuto non è che c'è solo una strada ognuno deve trovare il suo percorso però sicuramente è quello che c'è da fare e che mi sento di dire che è assolutamente da fare è quella di fare tantissima pratica proprio sulla prova d'esame quindi quello sicuramente perciò crearsi delle basi solide di studio e fare tantissima esercitazione